Amici, venerdì comincia la corrida, allora io potrei, potrei, diciamo, e sto passeggiando, sto andando avanti e indietro, e mi domando se potrei andare alla corrida. Chissà, dice, qui ne siamo tutti matti, non lo so, potrei provare con questo. Chissà, dice. Chissà, dice, non lo so, potrebbe andare bene, magari potrei anche vincere. Dove è messo io scherzo, un po' per l'attenzione. E qui. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.